Un saluto a tutti! Io sono Manuel Aschi e vi do il benvenuto ad una nuova sfida delle battaglie rap epiche! Oggi si sfideranno Clash Royale contro Brawl Stars! Prima della sfida ragazzi volevo segnalarvi questa fantastica app. Si chiama Dr.Fone, un software che farà da dottore per i vostri smartphone. Sviluppato dalla Wondershare, con Dr.Fone sarà possibile recupero della memoria interna del dispositivo, recupero da scheda di memoria esterna, recupero da dispositivi con schermo rotto, backup e ripristino dei dati del telefono, cancellare i dati definitivamente dal vostro dispositivo, copiare i dati da un dispositivo all'altro, da Android a un altro Android o anche da iOS ad Android, trasferimento dati di WhatsApp e sblocco del telefono o root del telefono per avere pieno accesso a tutte le funzioni del vostro dispositivo. Dr.Fone è gratuito, ma ovviamente per avere tutte le funzioni sarà necessario acquistare la versione completa. Sul sito di Dr.Fone troverete un sacco di videoguide utilissime nel caso in cui vi troviate in difficoltà. Come vedete Dr.Fone è più che affidabile perché è già stata recensita e approvata dai più famosi siti di informazione del settore. Inoltre potrete leggere le recensioni da parte degli altri utenti che l'hanno utilizzata. È possibile scaricare l'app Dr.Fone per Android o iOS nei link in descrizione qua sotto, oppure cercando su Google o su Google Play. Mi raccomando, se vi piace, lasciate 5 stelle. Per scaricare Dr.Fone dovrete andare su drfone.wondershare.com. In ogni caso vi lascio anche i link in descrizione per il download del software. Mi raccomando, scaricatelo. Comincia la sfida! Io sono Clash Royale, il miglior gioco di sempre. Tu in confronto a me resti solo un perdente. Io sono il videogame più scaricato. Tu invece al massimo sei il gioco più sfigato. Io sono Browstar, il miglior gioco Supercell. Tutti ormai si sono rotti le palle di te. Sono io il migliore, io te lo assicuro. Le tue carte te le puoi filare, superi il culo. Ma devi di star zitto e non parlare. Browstar, spari, spari, sempre tutto uguale. Io sono leggendario, fatti sotto. Tu sei inutile come un calendario del 2018. Io sono un gioco, un debito, un successo, meno merito. A te non ti do credito, sei così brutto che ti evito. Come gioco tu sei una schifezza. Giocare con te è come tornare a scuola, una tristezza. Io di volte te ne do tante. Senza di me tu non esisteresti neanche. Quindi abbi rispetto, inchinati al mio cospetto. Le tue scuse mi aspetto, altrimenti ti sparo al petto. Gioco con lo star e sparo con diverse armi. Gioco a Clash Royale, sì, se vuoi addormentarmi. Con me tu ti diverti all'infinito, cretino. Tu sei inutile come tuoi commenti su YouTube, primo, primo. Lascia like se pensi che vinca Clash Royale. Tu fai così cagare che ti chiamano Merdistar. Perché se ti installo sul mio smartphone, osserva, dallo schermo, sento puzza di merda. Mentre ProStar nasce Clash Royale muore. Comprò un bel sangue e star nel cuore. Batti le mani, stionca le dita. ProStar forever, tutta la vita. Tu ai miei livelli, no, non ci arriverai mai. Ti saluto dall'alto della classifica, bye bye. Con me ci gioca gli YouTuber, con milioni di iscritti. Con te ti gioca gli YouTuber, con 12 iscritti. Ti vengo da una brutta notizia, mio amico. Con te non gioca più nessuno, perché sei un fallito. Anche la Supercell ha scelto me, capito fra? Disinstalla Clash Royale, installa ProStar. Servizio. Da Manuel Aschia è tutto, al prossimo video. Ciao! Ciao!